Primo anno come presidente del Salone del Mobile, quali sono le aspettative? Quest'anno puntiamo molto sulla presenza di grandi visitatori, un numero alto di visitatori come gli altri anni, visitatori che vengono dall'estero, ma credo che anche dall'Italia quest'anno verranno diversi visitatori più degli anni passati. Dopo quello che abbiamo fatto il 2014, noi puntiamo su un Salone del Mobile che è sempre più adeguato ai tempi in cui viviamo. Questo è il mio progetto. E per le imprese, quali sono le aspettative degli espositori? Come ente organizzatore del Salone del Mobile, il nostro primo obiettivo è quello di portare più visitatori professionali possibile per soddisfare la chiesta da parte delle aziende che tanti sacrifici mettono per portare nuovi prodotti, nuovi design, che è il succo, è la storia, è l'eccellenza di questo nostro settore.